Allora, questa che vedete è l'originale Dinamo di Pacinotti, che penso più bello, più prezioso che abbiamo in questo Museo di Fisica di Sardegna. Questa è una macchina che fu costruita da Pacinotti quando era qui a Cagliari. Ce ne sono tre al mondo, le altre sono una a Paligi e una a Londra. Questa macchina è una svolta fondamentale nella storia della tecnologia e della cultura umana perché per la prima volta, grazie a questa enorme invenzione, l'energia elettrica è diventata disponibile in grande quantità e quindi la rivoluzione di cui noi adesso abbiamo tutti i vantaggi. L'energia elettrica è disponibile in tutte le case, in tutte le officine. Abbiamo tanti motori elettrici dappertutto, ascensori, lavatrici. Nelle officine e nelle fabbriche tutto funziona oggi con l'elettricità, per non parlare dei sistemi informatici. Quindi questo è un'energia elettrica.